La Giunta regionale pugliese ha stanziato 5 milioni di euro per l'istituzione di un fondo di rotazione che agevoli le imprese colpite dall'axilella fastidiosa e consenta un allungamento della durata dei muti accesi. La Giunta pugliese ha infatti deciso di impiegare parte delle risorse previste dal patto della Puglia siglato a settembre dello scorso anno tra governo nazionale e regionale con il quale sono stati assegnati complessivamente 2,07 miliardi di euro a valere sul fondo per lo sviluppo e la coesione per interventi strutturali finalizzati alla crescita e miglioramento della Puglia. Si tratta di uno degli interventi previsti dal patto, sottolinea il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ovvero quello dedicato allo sviluppo e competitività delle imprese e dei sistemi produttivi per il quale è prevista una dotazione complessiva rimodulata dall'ultima deliberazione dello scorso giugno pari a euro 191 milioni 897 mila. Ebbene, a detta del Governatore il fondo di rotazione offre a coloro che ne fanno richiesta un periodo massimo di allungamento del mutuo pari al 100% della durata residua del piano di ammortamento e non superiore ai 4 anni. I 5 milioni di euro confluiranno nel capitolo di bilancio istituito ad hoc nell'ultimo Consiglio regionale costituendo una nuova azione a supporto del comparto imprenditoriale delle zone distrutte dal fitopatogeno. Quest'ultimo provvedimento, prosegue Emiliano, ci consentirà di lavorare in combinato disposto con la norma inserita nell'ultima legge di assestamento e variazione di bilancio per l'esercizio finanziario 2017 pluriannale 2017-2019 della Regione Puglia. Una norma continua il Presidente regionale che ci ha permesso di istituire un fondo di 100 mila euro per andare incontro alle aziende danneggiate dalla Xilella attraverso contributi che allunghino la durata dei piani di ammortamento e riducano appunto gli interessi passivi nell'arco di tre esercizi finanziari. E in fase di conclusione, sottolinea ancora l'assessore regionale alle risorse agroalimentari Leonardo Di Gioia la pratica per l'assegnazione delle risorse previste dal decreto di declaratoria del carattere di eccezionalità per i danni causati dalla Xilella fastidiosa in Puglia. Dopo la pausa ferragostana inizierà di fatti l'istruttoria delle domande pervenute ai comuni competenti per accedere ai contributi previsti dal decreto. Sono quindi disponibili ancora pochi giorni perché le amministrazioni comunali concludano finalmente la fase di inserimento dei dati dei fascicoli aziendali su portale regionale dedicato in mancanza della quale non si potranno assegnare i contributi previsti. Nel caso le cose procedano così come previsto, si dovrebbero pagare i beneficiari entro i primi di settembre. Saranno risarciti, ribadisce Di Gioia, come previsto dal Fondo di Solidarietà Nazionale e quei proprietari che avranno dimostrato una perdita non inferiore al 30% della produzione lorda vendibile. Un'ulteriore richiesta di estensione dello stato di calamità per gli anni successivi al 2015 ricorda l'assessore regionale poliese è stata già approvata dalla giunta regionale e trasmessa al governo.